abbiamo spider man attenzione vi faccio sentire il video messaggio tre volte che entra a fare il dono per i bambini per i nonni per tutti tre volte tre terni di fila andiamo a ascoltare guardate qua spider man bel colpo sei dei nostri terno secco con 90 la nazionale la persona più speciale mamma mia sei diventato dei nostri terno secco a milano e l'ultima sua presenza terno secco col 90 a firenze grazie spider man è la terza volta spider man voglio urlare grazie un regalo per tutti i nonni per tutti i pensionati vai vai diamo voce a spider man vai felice che riporta tanta fortuna soprattutto pubblico di fascino tv ho regalato tre numeri d'oro alla paola per aiutarvi voi i nonni i nipoti e tutti per vincere e pagare le bollette del caso alla luce di tutti tutti voi ringrazio tutto fa sul tv grazie all'andrea alla paola che vi date opportunità di venire in televisione da voi stava un onore voglio ringraziare tutto staff e tutto direzione di fascino tv grande passione a tutti voi vi voglio bene ma tutto a tutti i tb la mia paola e andrea e tutti e soprattutto a lorenzo e a tutti i ragazzi attenzione lorenzo lorenzo è il nipotino di una mia amica amiche ha pianto dalla felicità per un giorno intero l'ho preso l'ho portato da spider man non credeva ai suoi occhi gli è arrivato il video messaggio lorenzo ti voglio bene vengo a stringerti la mano 200 chilometri ma siamo andati là io e spider man da lui occhio perché andrea ha detto qua paola giochiamoci quell'euro in più